Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno e tanti gli argomenti, parleremo di politica, parleremo però anche di cronaca perché oggi c'è stato questa notte, c'è stato un rogo tra sabato e domenica a mezzanotte circa e 40 e che i vigili fuoco sono intervenuti in via indipendenza, ci sono di Valmarino per l'incendio di 5 auto e una tettoia, tre persone sono state messe in salvo dai sanitari del suo M118 di rientro da un precedente intervento, arrivato in via indipendenza il personale del 118 ha notato una coppia di anziani ed un'altra, persone bloccate all'interno dell'abitazione, i vigili fuoco a corsi da Vittorio Veneto in supporto da Conegliano con due autopompe e un autobot hanno spento le fiamme delle auto che si trovavano sotto una tettoia evitando un incendio generalizzato che poteva propagarsi alla casa vicina, tre auto e due moto sono andate completamente a fuoco mentre altre due vetture sono rimaste danneggiate, in fiamme un deposito di legna ed altro materiale che si trovava sotto la tettoia coinvolta, parzialmente anche una bombola di GPL di cui ha bruciato solo la copertura in plastica, sul posto i carabinieri, tre persone portate in ospedale, sono state dimesse prima della fine delle operazioni di soccorso, le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 4.30 di questa mattina, le cause dell'incendio ovviamente sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti anche questa mattina per un ulteriore sopralluogo. E continuiamo con la crona che ci spostiamo invece a Vicenza perché un pregiudicato ai trafficanti di droga è stato trovato in un bar nonostante dovesse essere agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dagli agenti della questura di Vicenza che lo hanno portato in carcere. Un cittadino nigeriano pluripregiudicato di 28 anni è stato bloccato dagli agenti della polizia di stato e portato in carcere. L'uomo era già stato arrestato in esecuzione di un mandato europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca per traffico internazionale di stupefacenti ma era stato scarcerato e sottoposto alla misura detentiva dei domiciliari. Una misura giudicata inidonea a seguito di alcune verifiche effettuate dalla questura di Vicenza. Un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Venezia ha modificato la misura cautelare per il pregiudicato. Gli uomini della squadra mobile lo hanno rintracciato in un bar di violenza e portato presso la casa circondariale di Vicenza in attesa di un'eventuale estradizione. Ed ora siamo alla politica e vi presento subito l'ospite che dovrebbe essersi collegato con noi che è il vice sindaco di Treviso, lo vedo sullo schermo, Andrea De Checchi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a lei. Dunque partiamo con un servizio e dopo lo commentiamo insieme. Soldi e regali ai politici veneti che coltivano buoni rapporti con la Russia, questa è l'accusa pesantissima di un'inchiesta giornalistica internazionale che in quest'ora sta creando una vera e propria tempesta. Emergono i nomi di alcuni politici veneti. Sentiamo. Legittimare l'occupazione russa in Crimea e promuovere politiche promosche in Europa, questo l'obiettivo dell'International Agency for Current Policy, realtà guidata dal parlamentare russo Sargis Mirzakanyan, la cui attività è stata svelata da un'inchiesta giornalistica internazionale, complici migliaia di mail che dovevano rimanere riservate e che conterrebbero invece le prove di come i lobbisti russi intendessero pagare i politici, con tanto di onorari e budget per piani di viaggio, compresi soggiorni in resort a 5 stelle sulle rive del Mar Nero. E' in questa fitta corrispondenza che emergerebbe con forza il nome del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, già assessore regionale e oggi nelle file della maggioranza Palazzo Ferrofini, sarebbe stato lui il principale referente politico dell'agenzia russa non solo in Veneto ma in tutta Italia. Accanto a quello di Valdegamberi, anche i nomi di Paolo Tosato, senatore leghista veronese e già consigliere regionale, e di Roberto Ciambetti, anche lui leghista e attuale presidente del consiglio regionale. Nel materiale raccolto dal PUN investigativo va detto non risultano documenti finanziari o estratti conto capaci di dimostrare che i pagamenti siano stati effettuati, semmai l'evidenza di una relazione costante nel tempo e che avrebbe portato nel maggio 2016 il consiglio regionale del Veneto, primo in Italia, ad adottare una risoluzione a firma Valdegamberi per l'autodeterminazione della Crimea, tesa a far togliere le sanzioni alla Russia decise dalla comunità internazionale a seguito dell'invasione della penisola ucraina da parte del Cremlino. Sull'esempio Veneto si mossero poi Lombardia e Liguria, tutti i provvedimenti che ebbero un effetto tonificante per la propaganda di Mosca. Nell'inchiesta giornalistica finisce sotto la lente anche la visita della delegazione veneta in Crimea dell'ottobre 2016, quando si siglò un protocollo di cooperazione fra Veneto e governo locale filorusso, presenti Ciambetti e lo stesso Valdegamberi. Per Stefano Valdegamberi il risultato del viaggio non è stato puramente di pubbliche relazioni, si legge nell'inchiesta pubblicata in Italia da IRPI, ma l'organizzazione di contatti promettenti per iniziative imprenditoriali che paga le sue campagne elettorali e sostengono la sua attività politica. Parole pesantissime contenute in una mail inviata da un collaboratore al parlamentare russo, ma appunto da dimostrare, così come l'attribuzione allo stesso Valdegamberi di una somma da parte dell'agenzia russa di 3.000 euro. Da quello che ho letto la persona più coinvolta è il collega Valdegamberi, però il ruolo istituzionale di Roberto Ciambetti credo lo coinvolga e richieda veramente di chiarire e dare massima trasparenza ad ogni possibile coinvolgimento. Valdegamberi poche ore prima della diffusione dell'inchiesta ha pubblicato un post sui suoi social anticipando la propria presenza al sit-in Il Popolo non vuole la vostra guerra in piazza Braverona. Scommettiamo che la mia partecipazione a questo evento provocherà un attacco mediatico nei miei confronti nei prossimi giorni, preparato all'estero e consegnato ai media italiani compiacenti. Prendete nota di questo post, dice Valdegamberi. Insomma, gli elementi per un'altra tempesta perlomeno politica ci sono tutti. Se io fossi il presidente Zaia chiederei alle persone del mio gruppo di chiarire e di dare massima trasparenza ad ogni punto, perché io penso che le persone che li hanno votati debbano avere chiarezza e debbano togliersi qualsiasi dubbio in merito a vicinanze che dal punto di vista politico non sono oggi giustificabili. Assessore, una tempesta questa vera e propria. Vediamo se abbiamo qualche problema con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Intanto, vediamo, mentre attendiamo di ripristinare il collegamento con il vice sindaco di Treviso, vediamo cosa rispondono i diretti interessati che non solo smentiscono ogni ipotesi di regali, ma parlano di una vera e propria guerra di propaganda in corso. Vediamo dunque il servizio e poi vediamo se riusciamo a ricollegarci con il vice sindaco. Avendo vissuto quei momenti, come lì ha definito, agenti della propaganda russa, questi che stanno scrivendo sono agenti della propaganda contro Russia che in un momento di un conflitto armato sta facendo opera di disinformazione. Io posso assolutamente smentire che ci siano state regalie o altre cose perché, ripeto, sono assolutamente, e per come sono state scritte e messe in fila, una serie di inesattezze, per non dire anche bugie, che lasciano il tempo che trovano. Una guerra di propaganda. Non ha dubbi il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che dice di non aver mai conosciuto il parlamentare russo Mirzakanyan. Nell'inchiesta però figura anche una certa Marina Klevanovic, attivista russo-polacca con un'ampia rete di contatti nell'ambiente delle destre europee, avrebbe tenuto le relazioni anche con i media. È passato molto tempo, stiamo parlando del 2016-2017, ci mancherebbe. Sinceramente non mi ricordo se c'era una marina o qualcos'altro fra gli addetti stampa dell'Economical Forum mai alta. Però, ripeto, quel signore lì citato vi assicuro non l'ho mai visto, mai sentito. Ciambetti, che da ultimo commenta la richiesta urgente di chiarimenti formulata dall'opposizione di Arturo Lorenzoni, tirando in balo il Qatargate e lo tsunami che si è abbattuto sui socialisti europei. Io vorrei chiedere se Lorenzoni ha mai conosciuto Panzeri nelle sue attività istituzionali o professionali. Da Verone interviene Valdegamberi, a margine del sitino contro la guerra in Piazza Bra, mai ricevuto regali nei casi, dice. La linea è la stessa di Ciambetti, anzi più dura. Tutte balle, questo è il modo proprio per fare giornalismo o per fare disinformazione, fatto ovviamente da chi i mandanti, sappiamo chi sono, non sono italiani, vengono da l'estero perché bisogna convincere gli italiani che è giusto andare in guerra, è giusto fare la guerra per gli altri. La pagheremo cara questa scelta noi nel futuro, la stiamo già pagando cara a punto di vista economico, noi guardiamo anche le sanzioni recenti. Se noi guardiamo gli effetti e le sanzioni, stanno svalutando l'euro rispetto al dollaro, il dollaro ha recuperato sull'euro, il rubro ha recuperato, alla fine prendere quel posto sono proprio gli italiani, le imprese italiane, le case di riposo che si vedono energia cara a quelle tarifettare e tutte conseguenze di scelte scellerate dal punto di vista politico. Noi invece di pensare alla politica dei russi o alla politica degli americani, dobbiamo cominciare a pensare alla politica dell'Europa e prima di tutto dell'Italia. In attesa di poterci ricollegare con il vice sindaco di Treviso abbiamo dei problemi di collegamento, intanto parliamo di qualcosa di più colorato che è invece il carnevale perché la parata sull'acqua ieri a Venezia ha aperto il carnevale di Venezia, le vediamo poi delle bellissime immagini, ne parliamo insieme al nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniele, a te e ai nostri spettatori, buona domenica. Buona domenica, dunque è una parata, abbiamo visto delle immagini davvero bellissime. Sì, una parata davvero importante che è una delle novità di questo carnevale 2023, nel senso che non era mai avvenuta, non c'era mai stato un teatro galleggiante che ieri sera alle 20 è partito dalla stazione ferrovere di Santa Lucia e ha raggiunto in circa un'ora di spettacolo itinerante galleggiante, il bacino di San Marco, un modo per inaugurare il carnevale e soprattutto per dire che finalmente quest'anno, pur con tutta la prudenza del caso, la pandemia, il Covid, sembrano essere ormai alle spalle e quindi un po' il ritorno in pompa mani, in grande stile del carnevale di Venezia che appunto proprio per questo ritorno ha voluto così celebrare questa occasione in modo ancora più importante e cosa ci poteva essere di meglio che il Canal Grande e la Magia di Venezia è la città più bella del mondo per inaugurare la festa, un teatro a cielo aperto che ha visto numerosissime maestranze, giocoglieri, spettacoli di ogni tipo e in testa a questo corteo non dimentichiamo la Maria del 2022, Alice Bares che ha così dato il via alla festa. Poi questa mattina ancora un'altra bella occasione, il corteo Acquo delle Lemiere che ha voluto così aprire il carnevale in maniera molto veneziana, molto tradizionale, quella del corteo Acquo delle Lemiere che coinvolgeva, aveva come cuore il sestiere di Canareggio, invece è una delle feste tradizionali e appunto della Kermes che quest'anno è stata però ulteriormente arricchita e ha visto l'arrivo del carnevale in erbaria a Rialto dove c'è stato un grande rinfresco proprio all'insegno di quelli che sono anche le specialità economiche della festa. C'è stata una partecipazione delle Lemiere proprio perché appunto il carnevale inizia ricordando il segno originale che è il tema un po' che è il direttore Massimo Checchetto ha voluto per questa edizione, ma anche il legame inscindibile tra Venezia e l'acqua che è ovviamente l'elemento costituente di questa città. Voglio così anche aggiungere che è un carnevale diffuso e quindi che sta coinvolgendo da ieri e non solo ovviamente il centro storico, abbiamo raccontato di questi due eventi, ma ce ne sono stati anche altri, per esempio la commedia della Compagnia dell'Arte in centro storico, ma anche la terraferma di Messe che ieri è stata visitata da questo carnevale diffuso dagli artisti di strada e tutta la città metropolitana. Quindi sicuramente un carnevale che ribadisce il gambe tra Venezia e l'acqua, ma che si diffonde, si sparge la sua allegria, la sua gioia in tutta la città metropolitana. Ecco Lorenzo, poi abbiamo visto anche dalle immagini tantissima la gente che è venuta ieri sera. Eh sì, perché appunto si aspettava un po' questo ritorno in grande stile e parlando così ieri ci dicevano che anche un po' di persisti, di lavori, commercianti, che anche sono arrivati, stanno arrivando e sono arrivate nelle scorse ore anche tantissimi visitatori, tantissimi ospiti dall'aeroporto Marco Polo, segno che è una festa diffusa per la città, una festa veneziana, veneta, italiana, ma anche il turismo è tornato ad invadere la città anche dalle rotte che conosciamo, che erano legate a Venezia, di un turismo internazionale che è arrivato in Laguna per vivere un weekend, per vivere i giorni, ma sicuramente anche per incentivato dalla magia di questo carnevale. Un po' questo ritorno era stato ampiamente annunciato anche dagli albergatori nei giorni scorsi che hanno parlato più volte che nei prossimi giorni le prenotazioni degli hotel saliranno fino al crew della settimana grassi, perché ricordiamo che comunque il carnevale è una manifestazione lunga di 18 giorni che durerà fino al 21 febbraio, ovviamente poi è l'ultima settimana quella in cui si concentra un po' il crew, ma ci saranno eventi tutti i giorni e nella settimana crew le prenotazioni alberghiere che già in questi giorni, nei prossimi giorni hanno davvero registrato delle impennate, nella settimana crew si arriverà vicinissimi se non proprio al tutto esaurito, per cui un carnevale che è tornato veramente ad essere visitato da tutto il mondo. Ovviamente queste sono ottime premesse, poi sarà una festa da vivere per tutti i prossimi giorni e poi i bilanci e come andranno le cose si vedrà strada facendo. Lorenzo, volevo dirti, so che tu hai fatto anche un'intervista importante in esclusiva. Sì, ieri abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter avere un'intervista che si vive da Anna Foglietta che è tra le iniziative del carnevale che coinvolgono ovviamente abbiamo detto anche la cultura, i luoghi della cultura e i teatri. Ieri era a Mestre per presentare al Teatro Tognolo che era esaurito il suo spettacolo teatrali l'attesa fatto con un'altra bravissima artista che è Paola Minaccioni che racconta la storia di due donne che poi diventano amiche, ma non vi svegliamo altro perché è sicuramente uno spettacolo ambientato nella campagna veneta da poter vedere che ci sarà poi anche questo pomeriggio nell'ultima data di questa tre giorni metrina alle 16.30 al Tognolo, quindi c'è ancora la possibilità di andare a questo spettacolo che è stato anche a Trevise che sarà poi tra pochi giorni a Verona e quindi Anna Foglietta abbiamo avuto così il piacere di poter un po' anche parlare non solo dello spettacolo ma del suo personaggio, sappiamo che è un'artista molto impegnata, di valore, che ha un riguardo sul mondo molto importante, molto profondo e che è legata poi a Venezia come ricordiamo certamente tutti per essere stata la madrina della mossa internazionale d'arte cinematografica proprio nell'anno della pandemia, quindi un'edizione storica e ci auguriamo anche il ripetibile in cui lei proprio ha condotto tutto il pubblico in un momento delicatissimo a far sì che insieme al direttore Barbero, ovviamente, al Presidente Ciccuto e a tutt'altra della Biennale a far sì che tutto si potesse svolgere in modo ordinato, in modo sicuro, per cui se stai d'accordo possiamo vedere un piccolo brano di questa intervista che poi vi proponeremo anche nelle prossime occasioni. Anna Foglietta, bentornata a Venezia, è con noi degli spettatori di Antena 3, ancora qui a Maestro Antoniolo per questo spettacolo, l'attesa, che spettacolo è? C'ero presenti? L'attesa è uno spettacolo molto desiderato, che si è fatto attendere parecchio, per realizzarlo ci è voluta la grande tenacia di Michela Cescon e la follia di Anna Foglietta e Paola Minaccioni che si sono buttate ad affrontare un testo che non veniva nuovamente rappresentato da tantissimo tempo, perché fu portato in scena 25 anni fa in maniera molto gloriosa, poi per tanti motivi non si è più rappresentato. Noi abbiamo deciso di cogliere la sfida e di riproporlo nuovamente al pubblico perché crediamo che contenga moltissimi elementi di grande modernità ed è un teatro alto, di grande letteratura, però anche molto popolare nel senso più bello del termine, perché le persone a qualsiasi livello lo comprendono e lo recepiscono nel modo migliore, perché è uno spettacolo di voi andare veramente fieri. Avete dunque sentito poi ovviamente l'intervista più lunga, la sentiremo poi nel corso dei nostri telegiornali di domani a partire dalle 19 di Venezia. Lorenzo, ti saluto e ti ringrazio. Di nulla, grazie a voi. Posso solo aggiungere che in questa intervista che poi vedremo nelle prossime occasioni, Anna Foglietta dice che ama il Veneto, quindi una dichiarazione d'amore e un ringraziamento anche al Veneto per come è accolta in tutta la sua produzione artistica e poi regala ai nostri telespettatori anche un saluto personale, per cui seguitici. Grazie, grazie davvero Lorenzo, grazie e buona domenica. A voi. Grazie, noi torniamo a parlare di politica, finalmente siamo riusciti a ricollegarci con il vice sindaco di Treviso. Torna a risalutarla, buongiorno. Dunque, solo un commento su quanto ha sentito nel servizio di prima, per quanto l'abbiamo sentito la bufera, questa tempesta politica che ha coinvolto la Lega. Guardi, i partiti naturalmente di governo hanno una linea ben precisa nei rapporti in questo momento, riferiti anche all'aspetto bellico, con la Russia in ordine all'Ucraina. Quindi devo dire, da un punto di vista politico, mi sembra che la posizione sia assolutamente netta a tutti i livelli. Poi nel caso specifico, devo dire, io lo sa, anche per deformazione professionale, sono sempre abituato a giudicare su elementi documentali certi, provati, comprovati, quindi devo dire, francamente, prima di esprimere qualunque tipo di opinione o commento, credo sia il caso di approfondire nel dettaglio le vicende che abbiamo sentito narrate, capire le motivazioni, capire l'esistenza, gli elementi complessivi e quindi direi che per esprimere un giudizio sia assolutamente il caso di fare chiarezza complessiva su tutti gli elementi prima di puntare il dito su chiunque. Quindi devo dire, sia esso persona fisica o partito politico. Quindi non facciamoci prendere da furori iconoclastici nei confronti di persone o partiti prima di aver capito in maniera completa cosa abbiamo di fronte. Se invece adesso parliamo anche del suo assessorato che è quello al commercio, un po' la situazione, qualche volta si dice tra luci ed ombre, va bene, però insomma vediamo magari qualche chiusura, ma insomma una situazione che sembra stia un po' migliorando? Allora guardi, la tematica è decisamente articolata nel senso che il mondo del commercio complessivamente deve fare i conti con un mondo che cambia a una velocità rapida, strumenti di regole di ingaggio con gli acquirenti, con i consumatori diversi che vanno dalla grande distribuzione, che vanno alle vendite online. Quindi devo dire molti elementi sui quali interrogarci. Il commercio cittadino in modo particolare ha, a mio modo di vedere, cittadino trevigiano naturalmente, ha degli elementi di pregio rispetto a tutte queste situazioni che abbiamo appena detto. è inserito in un contesto di verità, quindi non in situazioni artefatte o ricostruite, ma quindi comprare a Treviso significa anche frequentare una città che vive, che ha delle bellezze e che offre molto di più rispetto al singolo acquisto. Ha delle grandi eccellenze commerciali, intesi in termini di prodotto, quindi di qualità della merce che viene posta in vendita e ha delle grandi professionalità di coloro che questo prodotto poi vendono, quindi il servizio. Quindi credo che il commercio cittadino abbia tutti gli elementi, contesto, prodotto e risorsa umana in grado di far fronte anche a quelle difficoltà che il commercio tradizionale può vedere per il futuro. Gli ultimi dati legati ad esempio ai saldi ci danno uno sguardo di positività rispetto al commercio cittadino. È chiaro anche che l'economia generale, quindi il tessuto commerciale così come quello artigianale, non è un compartimento stagno, quindi vive della vita che vive la città, chiedo scusa del gioco di parole, quindi più la città è viva, quindi anche con elementi complementari, mi riferisco agli eventi, alla cultura, alle infrastrutture, quindi capacità di parcheggio, capacità di servizi, mezzi pubblici, quindi anche facilità nel frequentare la città. Ecco tutto questo naturalmente porta a far sì che poi a ricaduta anche il mondo del commercio tradizionale possa trarre di benefici. E questo insomma, viste le iniziative dell'ultimo periodo e visto anche il numero alto di turisti sta favorendo la città? Assolutamente sì, anche perché ricordiamo che se il turista evidentemente ha un approccio in prima battuta legato tendenzialmente alla somministrazione di alimenti e bevande o al mondo del turismo, quindi all'hotellerie e alla residenza turistica, è evidente che poi tutto quel settore, avendo imprenditori, avendo dipendenti, avendo soggetti che gravitano attorno, a caduta rende più ricco tutto il nostro sistema produttivo e commerciale e quindi quando si ha un volano che funziona molto bene come quello del turismo, tutto poi il mondo economico, anche quel commercio che magari non è direttamente interessato al turista, poi vive di successi. Ecco, oggi è la giornata ecologica, quindi insomma a Treviso in centro si arriva a piedi, anche se le polveri settili, i livelli cominciano un po' a preoccupare Assessore e dovessero alzarsi, continuare ad alzarsi, si rischia di entrare in zona russa, quindi si rischia insomma di dover fare delle chiusure. La qualità dell'aria è un tema di grande attualità, non solo a Treviso, devo dire, è un tema che riguarda complessivamente direi il nord Italia, la pianura padana stessa che per conformazione geografica evidentemente in presenza di fattori climatici avversi mantiene questi livelli elevati di PM10. Ora noi sappiamo bene che le chiusure e le giornate ecologiche hanno una funzione propria, decisamente interessante, sono dei segnali forti anche a livello diciamo educativo di come una città dovrebbe essere vissuta, mi riferisco magari a quei soggetti che adoperano il veicolo per fare un chilometro, un chilometro e mezzo, dimostrare che c'è la possibilità di frequentare la città diversamente è un elemento fondamentale. Certo è che per il futuro le politiche di ogni amministrazione dovranno interrogarsi seriamente sui fattori ambientali. Ecco, Assessore, lei diceva appunto il commercio ovviamente è strettamente legato ai cittadini che arrivano in città per acquistare eccetera, queste chiusure che poi rischiano magari di diventare molto più importanti se il livello continua a crescere può creare dei problemi anche al commercio. Abbiamo sentito alcuni commercianti che diciamo siamo preoccupati perché poi se non si può arrivare in centro, non si può arrivare vicino al centro perché si chiude maggiormente dopo questi anni di grandi difficoltà, insomma questo potrebbe essere davvero un problema non indifferente. Ne capisco e ne condivido la preoccupazione, è per quello che determinati provvedimenti dalla giornata ecologica a eventuali provvedimenti più radicali in caso di peggioramento della situazione, non devono essere lasciati soli, quindi limitarsi all'adozione di quel provvedimento ma devono essere accompagnati da una serie di coinvolgimenti di altri provvedimenti che vanno a, come posso dire, equilibrare la situazione della frequentazione. Mi spiego, avere una giornata ecologica e non occuparsi di segnalare bene i partiti. Abbiamo di nuovo un problema, vediamo se riusciamo di nuovo a ripristinare, se è di nuovo bloccato purtroppo il collegamento con il vice sindaco e assessore al commercio di Treviso, vediamo se si riesce a ripristinare questo collegamento, stiamo parlando di PM10, stiamo parlando di polveri e polveri sottili perché sapete oggi è di nuovo giornata ecologica a Treviso, quindi si entra in città a piedi, ci sono i parcheggi, lo stava appunto dicendo l'assessore poco fa prima che si bloccasse il collegamento, ci sono dei parcheggi gratuiti e la volta scorsa c'era stata qualche polemica su questa giornata ecologica da parte dei Cinque Stelle, però insomma avevamo visto anche un'affluenza importante nel pomeriggio di cittadini anche insomma grazie al tempo che era insomma un tempo che permetteva anche le passeggiate, quindi vediamo poi come andrà oggi questa giornata anche perché i commercianti insomma sperano anche molto nell'affluenza dei cittadini di domenica per poter, insomma sono aperti molti molti negozi, quindi vedremo poi magari come sarà andata e non so non riusciamo a vedere il collegamento, quindi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, non siamo ancora riusciti a ricollegarci con il vice sindaco di Treviso, se non dovessimo riuscirci io comunque lo saluto e lo ringrazio per essere stato con noi, se invece dovessimo ricollegarci continueremo questa chiacchierata sulla giornata ecologica. Prima di continuare però una notizia di cronaca che è giunta ora in redazione, è morto lo sci alpinista travolto da una valanga il 3 febbraio sul versante nord del Cristallo sopra la concampezzana, il 35enne di nazionalità francese era stato trascinato per 500 metri rimanendo sepolto, recuperato e rianimato sul posto, il giovane è stato trasferito all'ospedale di Trento dove purtroppo questa notte le sue condizioni di salute sono peggiorate, si tratta della terza vittima in meno di 48 ore sulle Dolomiti a causa del distacco di Valanghe, ieri la doppia tragedia che si è consumata in Alto Adige, questa dunque la notizia. Ora parliamo di autonomia perché questa è una settimana storica, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sull'autonomia e proprio in queste ore a Vicenza sono arrivati il Ministro Roberto Caldeori, grande promotore della riforma e la senatrice Erika Stefani che è stata autrice della bozza con cui è stata costruita la riforma dell'autonomia, sentiamo. Quando tu apri quell'argine lì dell'autonomia, una volta che l'hai aperto tu non lo puoi più richiudere, è aperto da tempo perché è aperto col referendum, è aperto anche con il lavoro che ho fatto io e oggi ha un varco, non si potrà mai più chiudere questo varco. Un varco è stato aperto e non si potrà più chiudere. Parola e musica di Erika Stefani, ex Ministro per gli Affari Regionali, autrice della bozza di accordo per il raggiungimento dell'intese tra lo Stato e le regioni che hanno chiesto l'autonomia. Gli alleati qui hanno rispettato i patti, oggi inizia un lavoro, di certo sono sicura come tutti i passaggi parlamentari, come tutti i passaggi istituzionali, avranno degli inciampi, ci saranno qualcosa da aggiustare, ci sarà qualcosa da raddrizzare, però è un fiume in piena che non può più essere veramente fermato. Ora che il disegno di legge sull'autonomia, messo a punto dall'attuale Ministro per gli Affari Regionali, è stato approvato tra gli applausi in Consiglio dei Ministri, la riforma ha iniziato il suo iter. Con la forza di una maggioranza di governo, con la forza anche di illustrare un progetto che è ottimo e che può essere benissimo condiviso veramente da tutti, possiamo arrivare veramente alla fine. Adesso inizia la fase più operativa e tecnica. Il Ministro Roberto Calderoli, ieri sera a Vicenza, ha rivelato che sta mettendo insieme una cabina di regia con professionisti di altissimo livello. Le persone sono state già individuate, ho già ricevuto la loro disponibilità, siamo oltre i 50 e veramente abbiamo il top del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e dei professori economici. Ora invece parliamo di una riforma che è al centro di tante polemiche, di tante discussioni, abbiamo sentito anche l'amministro Nordio che diceva che sta lavorando su questa riforma, qualcosa dice che bisogna modificare, lo dicono le forze dell'ordine, lo dicono le istituzioni, noi ne parliamo insieme. A Maurizio Casagrande, segretario provinciale del SAP di Treviso che ci ha raggiunto qua in studio, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie per l'invito e l'opportunità che abbiamo di spiegare i nostri problemi. Ecco perché questa riforma comunque ha creato, possiamo chiamarli dei problemi, comunque delle difficoltà anche nell'attività delle forze dell'ordine. Il 30 dicembre è partita, è scattata questa riforma e ci sono stati due giorni di assestamento per capire che cosa voleva dire adesso la riforma cartabia nell'attività delle forze dell'ordine. Ci sono anche parecchie ancora contraddizioni. Ci sono assolutamente delle difficoltà. Allora, con la dovuta promessa che le scelte le fa la politica sui impianti normativi, noi siamo qui solo a segnalare i problemi applicativi. In passato la politica si occupava un po' di più di ascoltare gli addetti al settore prima di confezionare delle nuove norme. Oggi un po' di meno, non comprendiamo il perché. L'aspetto della riforma cosiddetta cartabia, che ha due sfaccettature, una in campo penale e una in campo civile. A noi tocca la parte penale, quella civile non è quasi esclusiva competenza di altri organi. Le difficoltà per noi sono di tipo applicativo per quanto riguarda alcuni aspetti e soprattutto operativo per quanto concerne alcuni reati, in particolare quasi esclusivamente per il reato di furto. Per essere semplici nella spiegazione, il reato di furto ha varie tipologie di comportamento. Fino a ieri tutti i furti cosiddetti aggravati erano procedibili d'ufficio. Significa che appena un organo di polizia ha notizia di un reato di questo tipo, procede automaticamente alla comunicazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria per la successiva indagine e procedimento penale. Oggi molti di queste tipologie di furto sono stati esclusi da questa procedura automatica. Significa che il cittadino subisce un certo tipo di furto, poi magari spiegheremo quali, deve chiedere espressamente lui di iniziativa che il colpevole venga punito. Questo comporta sicuramente un aggravio di lavoro per le forze di polizia. Ecco perché questo? Cioè un aggravio perché bisogna convincere anche, perché molte volte non è facile, il cittadino a volte viene rintracciato perché magari non è in casa oppure magari è fuori e quindi è difficoltoso anche questo. Ecco, l'esempio, allora il paradosso e la fattispecie tipica ce l'abbiamo nell'esempio del furto avvenuto che è andato agli organi di stampa su tre autovetture nei pressi dell'aeroporto di Treviso alcuni giorni fa. Si è potuto procedere eventualmente con l'arresto obbligatorio facoltativo a seconda poi delle condizioni solamente perché uno dei tre proprietari è stato rintracciato e ha formalmente presentato la cosiddetta denuncia querela. Se in quell'ipotesi nessuno dei proprietari dei tre autoveicoli fosse stato rintracciato, il collega che operava avrebbe dovuto identificare solamente la persona, lasciarla andare, e di conseguenza lasciare che compisse poco dopo un altro furto e anche in quel caso se non si fosse trovato il proprietario si applicava la stessa procedura e il cosiddetto ladro perché non si può chiamare ladro finché non c'è la querela, anzi bisogna dire che il reato esiste, manca la condizione di procedibilità e di conseguenza avremmo avuto una battuglia di polizia che rincorreva tutta la notte lo stesso malvivente finché non avesse trovato poi un proprietario, una parte lesa, cosiddetta parte lesa, che presentava la querela. Questa diventa un po' una storia che rasenta il ridicolo, insomma forse si può paragonare a un film di Totò su Guardie Ladi ma non è uno scherzo. Ecco, fra l'altro dobbiamo anche dire che, appunto lo diceva lei, una querela perché di solito si è abituati a dire facciamo una denuncia che però è una segnalazione, non è una querela vera e propria, bisogna fare la querela che è una cosa che è un passo cioè bisogna anche spiegare ai cittadini che... Allora, quella che oggi giuridicamente si chiama denuncia querela è una denuncia qualificata specifica per alcuni tipi di reato che sono lasciati alla libera scelta della parte lesa del cittadino che ha subito il reato e quindi c'è una valutazione sua. Faccio l'esempio, il reato di ingiuria che è l'offesa alla persona, giustamente direi io viene lasciato alla libera scelta del cittadino perché può essere un'offesa che termina con magari una stretta di mano e una richiesta di scuse. Il reato di furto in questo caso che è quello più... su cui più focalizza la procedibilità è un reato volgarmente detto predatorio ma è un reato contro il patrimonio che danneggia il cittadino in maniera molto marcata. Molto marcata perché anche il furto della bicicletta per una persona che ha un patrimonio limitato è un danno, mi ripeto, patrimoniale molto molto alto. Quindi questo è un problema di un certo tipo. Il secondo aspetto è che abbiamo lasciato, ad esempio lo rapportano anche esimi magistrati, i reati di furti di autoveicoli alla facoltà di querella di parte. Significa che anche in questo caso il reato di furto non sarà perseguito. Il furto del veicolo molte volte corrisponde anche ad un reato, si associa ad un reato più grave che è quello della rapina, che è quello di un successivo furto in abitazione o in istituto di credito commesso poi con le aggravanti dell'esplosivo e quindi una conseguenza di reati che si producono a catena per non aver impedito o punito il primo. Poi c'è l'aspetto del cittadino. Lei prima diceva il cittadino come reagisce. Il cittadino è demotivato quando sente queste informazioni perché già prima raccogliere una denuncia era un convincimento che comunque la polizia giudiziaria non dovrebbe fare perché dovrebbe solo informare. Il cittadino si convinceva perché pensava ad una successiva punizione del responsabile o comunque a una ricerca. Oggi questo demotiva il cittadino a presentare questa cosiddetta denuncia. Perché hanno paura che comunque dopo la querela non ci sia un seguito sull'attività. E questo ad esempio succede per i reati di truffa dove ormai il cittadino subendo truffe anche di poca entità ormai è poco convinto a presentare la denuncia querela anche in questo caso perché è un tipo di denuncia qualificato perché sa che è difficile rintracciare il truffatore qualora viene rintracciato in una sede molto lontana da casa sua deve presentarsi al processo magari facendo mille chilometri in treno con spese a carico suo e magari con un danno che è di poche centinaia di euro. Fra l'altro accentuata questa situazione anche per i turisti che arrivano nella nostra città perché poi i turisti magari vengono borseggiate abbiamo visto tante volte a Venezia oppure comunque subiscono dei furti può succedere anche insomma nel Trevigiano e se non c'è la denuncia querela se queste persone non vanno non si presentano non fanno una querela la persona che li ha derubati è assolutamente libera. È assolutamente libera perché il reato si è consumato ma manca la condizione di procedibilità che è questa forma specifica per cui non si va mai a un procedimento penale. Questo ha un aspetto. Io ho sentito rappresentanti dell'autorità giudiziaria che comprendo ma non capisco che hanno lasciato intendere che insomma con questa riforma molte scrivanie delle procure rimarranno pulite da fascicoli di questo tipo. È comprensibile da parte loro perché hanno ovviamente delle difficoltà da parte degli organi di polizia bisogna dire che queste scartoffie che loro non vogliono più rimangono a noi. Noi continuiamo con la stessa attività, la procedura è la stessa che dobbiamo attuare le nostre scrivanie per tre mesi rimarranno con questi fascicoli appoggiati perché bisogna attendere il termine ultimo di prescrivibilità per la querela. Quindi per gli organi di polizia questo è un cambiamento forse peggiorativo perché nel frattempo non si può nemmeno fare un'attività di indagine. C'è poi l'aspetto che ha portato alla legge Cartabia delle verbalizzazioni fonoregistrate. Ecco che magari spieghiamo esatto che cosa sono perché... Allora sì, è molto semplice. Alcune attività di polizia giudiziaria, la verbalizzazione dell'indagato, della persona sottoposta a indagini da parte o dell'indagato su delega dell'autorità giudiziaria permette al singolo e al suo difensore di richiedere una videofonoregistrazione di tutta la verbalizzazione che è sicuramente una garanzia ulteriore, legittima e chi direi anche molto moderna. Resta il fatto che per la quasi totalità le forze di polizia non dispongono di questi sistemi di videofonoregistrazione certificati. Significa che la videofonoregistrazione va fatta in un certo modo, va conservata con la catena di custodia di un'attività di polizia giudiziaria, va consegnata al difensore, va consegnata all'autorità giudiziaria e va conservata agli atti dell'ufficio per un utilizzo o un backup successivo. Questo è un problema perché le forze di polizia non sono dotate di questi sistemi e attualmente non si è pensato nemmeno di trovare delle soluzioni, hanno sentito dei consigli fantasiosi da parte di persone anche esterne agli organi di polizia che utilizzano il tuo cellulare, eccetera. Quindi qui entriamo in un campo di normativa europea sulla tutela dei dati e quindi andiamo su aspetti penali da parte di chi dovesse attuare questo sistema. Questo è un altro grosso problema. Ecco, dal punto di vista proprio delle forze dell'ordine, questa situazione come la sta vivendo? Allora, la sta vivendo male e con frustrazione, però con la premessa che noi riusciamo, io parlo per tutte le forze dell'ordine perché il rapporto sul territorio ce l'abbiamo in maniera molto uniforme, omogenea e cordiale, a questa frustrazione c'è una piccola stampella ancora che è lo spirito di servizio che hanno i colleghi, la volontà comunque di perseguire un fine previsto da una norma, di aiutare soprattutto il cittadino perché molte volte si parla di furto, sì, beh, ormai anche il furto della bicicletta, sì, mi hanno fregato l'ennesima bicicletta. Per uno che non ha molto interesse, vabbè, passa, come si è detto, in cavalleria, ma per una persona anziana che subisce anche il furto della borsetta, dove magari non c'era nulla all'interno, ma magari un piccolo ricordo dei familiari che non ci sono più. La borsa era stata regalata da qualcuno e il danno psicologico su queste persone è devastante, molto più di quello patrimoniale. Allora, io questo direi, chi si occupa di confezionare le leggi dovrebbe pensare anche al cittadino di come si sente in queste condizioni, perché non è sempre legato all'entità del valore delle cose rubate. È soprattutto un danno... Io ho conosciuto una signora molti anni fa che ha subito un furto in abitazione alle tre e mezza di notte e da quel giorno lei alle tre e mezza di notte si svegliava per fare le faccende domestiche. Cioè il famoso film di Capitano Uncino dove il coccodrillo ha mangiato la sveglia, la mano con la sveglia, questa signora se l'era confezionato in casa e ha detto io da quel giorno mi alzo automaticamente alle tre e mezza di notte. Questo credo sia un danno devastante per i cittadini. Io la fermo solo un attimo perché ho visto che si era ricollegato anche per salutarlo il vice sindaco di Treviso. Oggi con il collegamento abbiamo veramente dei grossi problemi. Però insomma, volevo proprio prima di continuare, perché stiamo parlando con il segretario provinciale del SAP e della legge Cartabia di quello che accade, come viene visto dalle forze dell'ordine. Io volevo solo chiudere, se è possibile con lei, Assessore, la questione e dopo ci collegheremo anche con il nostro Lucio Zanato proprio da Treviso sulla questione proprio che dicevamo dei commercianti e un po' dell'esasperazione. Assessore dei commercianti che dicono mamma mia se adesso... spero che sia collegato ancora, che non si sia scollegato perché no, niente, non c'è proprio verso. Lo ringrazio e magari chiedo alla regia se lo ringrazia per noi e lo salutiamo perché veramente ci sono delle difficoltà oggi nel collegamento con il vice sindaco, quindi comunque lo ringrazio. Loro noi andiamo avanti a parlare della legge Cartabia, ecco, della riforma a Cartabia. Ecco, che cosa vi dicono i cittadini? Cioè, come... Ma, allora, il termometro che noi abbiamo sul sentore dei cittadini è ancora, diciamo, è ancora molto lontano, nel senso che il cittadino percepisce la comunicazione mediatica, giornalistica, non ha ancora vissuto a pieno questa modifica. Probabilmente... A parte chi ha subito dei furti? Eh beh, chiaramente sì, a parte chi ha subito dei furti e che inizia a chiedersi alcune cose. Secondo me il cittadino non ha... è passato un mese, insomma, ecco, quindi non c'è stato secondo me il tempo. È più l'informazione mediatica che va a colpire il cittadino. Vi aspettate adesso una modifica di questa riforma? La sperate perlomeno? Allora, assolutamente sì e noi l'abbiamo anche chiesta. Il ministro Nordio, insomma, che conosciamo per il suo grande spessore di magistrato e ora di ministro, ha già messo in campo almeno a livello comunicativo alcune proposte. Ci lasciano perpresse le proposte di rendere procedibile d'ufficio, cioè automaticamente senza quella famosa querela, dei soli reati di furto aggravati per la componente mafiosa, quindi la minaccia della parte offesa, eccetera. Perché questo credo fosse doveroso lasciarlo anche prima, insomma, forse è stata una svista del precedente confezionatore della legge, più che legislatore, ma anche altri tipi di furto che vengono commessi senza l'aggravante della minaccia, della paura mafiosa, portano il cittadino ad essere demotivato, un po' anche per paura che la famosa frase, ma il ladro ritorna qui da me, mi riconosce, sa la mia casa com'è fatta. Quindi c'era già prima... C'era paura... C'è un timore, c'è un timore, più che paura c'è un timore, quindi nel dubbio molto probabilmente abbandoneranno questa idea di presentare questa famosa denuncia qualificata. Questo c'è, c'è rischio anche su questo. Ripeto, perché poi i reati di furto sono reati che sembrano mai furto una cosa così, ma ripeto, bisogna subirlo per capire qual è il vero danno personale oltre che patrimoniale, ovviamente, perché... Tra l'altro lei diceva una cosa, insomma, importante e che è vero che le forze dell'ordine, noi parliamo adesso con il sindacato autonomo di polizia, quindi con la questura, con la polizia però, insomma, questo riguarda anche tutte le altre forze dell'ordine. Come citava lei, comunque i carabinieri, i vigili, la polizia locale, la guardia di finanza, questo riguarda un po', forse un po' meno, però riguarda un po' tutte le forze dell'ordine che operano e che cercano, insomma, di tutelare i cittadini nel territorio. E lei diceva, sì, sono demoralizzati, però lo spirito di servizio è quello che anima maggiormente, insomma, l'attività delle forze dell'ordine. Assolutamente sì, tutti hanno mai l'abitudine di chiamare le forze di polizia servitori dello Stato perché comunque le forze di polizia prestano un servizio, non è che svolgono un lavoro, un lavoro che comunque ha sempre una dignità, qualsiasi esso sia, noi prestiamo un servizio, cioè siamo al servizio della collettività. Quindi io credo che i colleghi, anzi sono sicuro, come lo sento io ormai da tanti anni, ma anche i colleghi più giovani hanno questo spirito di dover fare qualcosa per gli altri. Probabilmente se non avessero avuto questo spirito avrebbero scelto anche altri tipi di attività meno gravose, meno impegnative, meno rischiose sotto il profilo più che della vita, direi sotto il profilo giuridico. Certo che ogni anno c'è sempre un tassello diverso che insomma alla fine invece di agevolare il lavoro a volte purtroppo pone delle difficoltà non indifferenti nel vostro lavoro. Sì, ecco su questo noi come sindacato autonome di polizia ormai da 30 anni ne facciamo una battaglia che è partita con lo spot chi difende i difensori, ma adesso l'abbiamo trasformata in quello che sono le garanzie funzionali, che non significa le garanzie oppure l'oscurare le cose che fanno le forze di polizia, ma in maniera assolutamente democratica indagare su quella che è l'attività di polizia in maniera trasparente, ma soprattutto senza danneggiare ogni volta il singolo operatore. Perché c'è anche questo aspetto da mettere in evidenza, perché questo è uno degli aspetti di cui volevamo parlare, era proprio questo, che a volte c'è anche la difficoltà nell'operare proprio perché ci si trova di fronte persone che magari poi presentano denunce, insomma mettono in difficoltà anche gli operatori nel loro lavoro, insomma anche... Sì, ecco, quello che noi non vogliamo assolutamente è che ci sia una tenda che nasconde l'attività di polizia, vogliamo assolutamente che qualsiasi attività di polizia sia sottoposta all'autorità giudiziale nella giusta misura per verificare tutte le condizioni di legittimità. Non deve essere fatta come strumento, come funzione strumentale. Oggi una persona che viene indagata dalle forze di polizia che ha cattive intenzioni presenta una volgarmente chiamata controquerela, ma in realtà presenta una nuova denuncia nei confronti dell'operatore di polizia. Questo perché? Perché, su consiglio legale ovviamente perché non è una cosa inventata, l'operatore di polizia in quel caso diventa imputato in procedimento connesso. Quindi il suo valore di teste, di testimone, d'accusa viene molto ridimensionato e è un imputato al pari del primo imputato che ha avuto l'attività della polizia. Il secondo aspetto è quello poi, entriamo nel campo patrimoniale, delle spese a carico del singolo poliziotto che deve anticipare per i 2, 3, 4, 5, 6, 10 anni dei vari gradi di procedimento penale con spese a carico suo. Poi alla fine forse rimborsate da una forma di tutela legale che lo Stato ha applicato, ma non sempre corrisponde al totale del rimborso. Con poi un procedimento che richiede l'allontanamento temporaneo da un certo tipo di servizio per un principio di tutela amministrativa e quindi questo si traduce in un danno per il singolo operatore non indifferente. Volevo fare presente una cosa che si parla da noi tantissimi anni. L'operatore di polizia, soprattutto quello su strada, quello che svolge l'attività di pronto intervento in genere, è chiamato nella maggior parte delle volte a prendere decisioni che in una manciata di secondi quando va bene in una manciata di minuti, con una valutazione che molte volte chi poi opera nell'ufficio o anche l'autorità giudiziaria si può permettere di fare in un mese, due mesi di studio. Significa che se io su strada devo reagire a un intervento cruento, devo in pochi secondi valutare l'aspetto giuridico della mia responsabilità, eventuale copertura assicurativa che posso avere per responsabilità civile. Se io penso a tutte queste cose probabilmente il lavoro non si fa mai perché si va. Per fare l'attività di polizia ci vuole anche un po' di incoscienza perché bisogna agire in pochi secondi, molta fantasia perché bisogna trovare molte volte degli strumenti per poter agire senza avere poi in mano nulla e anche qui entriamo in un campo di adeguate strumentazioni e altri... Insomma un lavoro che sta diventando anche sempre più complicato anche dal punto di vista giuridico? Beh sotto il punto di vista giuridico assolutamente sì, gli esempi banali, li chiamiamo banali ma sono drammatici, è quello dei colleghi che rispondono a un conflitto a fuoco, rispondono a un conflitto a fuoco perché sono stati attinti anche per fortuna non in maniera incisiva da colpi d'arma a fuoco, purtroppo dei malviventi perdono la vita e i colleghi vengono indagati per atto dovuto con tutte le varie aspetti economici al loro carico. Volevo, ecco noi come sindacato di polizia, la segreteria nazionale ha già da parecchio tempo presentato delle proposte normative su queste che è quello di fare una assoluta trasparente valutazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria senza che vi sia l'indagato. Allora nel vecchio codice di procedura penale esisteva il giudice istruttore che procedeva a una preliminare valutazione. Oggi si potrebbe, come abbiamo proposto noi, lasciare questa discrezionalità al procuratore generale verso i corti d'appello che fa una valutazione preliminare. Se c'è la condizione per procedere si procede a livello penale indagando la persona. Credo però che con questo strumento sfoltiremmo parecchio la famosa attività delle procure e salveremo qualcuno insomma da una graticola gratuita perché essere così volgarmente espressivi ecco. Ci sarebbe davvero ancora molto da dire su questa cosa perché è veramente un problema non differente perché loro insomma tutelano i cittadini, scendono in campo poi rischiano come purtroppo spesso accade e non solo la vita ma rischiano anche giuridicamente. Io ringrazio davvero per essere stato con noi. Volevo se mi permette una conclusione. Molte volte i colleghi che si trovano in situazioni che poi magari si trovano sovraccaricati di conseguenze fisiche e giuridiche e vengono spesso chiamati eroi. Noi non vorremmo essere chiamati eroi perché agli eroi purtroppo si fa un monumento, si intitolano una strada. Vorremmo avere una tutela giuridicamente corretta, costituzionalmente corretta ma una tutela su quella che è l'operatività nostra. Meno eroi e più poliziotti funzionali in giro farebbero molto più risultato. La ringrazio, grazie davvero per essere stato noi, poi magari sicuramente in altre ci potremo vedere ancora per continuare questo. Grazie, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere stato qua. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in questo momento, che sono il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E il sindaco di Ponte di Piave, la conoscete, Paola Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di iniziare facciamo un piccolo repilogo della giornata di ieri. Partiamo dalla politica perché poi vorrei parlare con loro anche di altre cose. Vediamo subito la presentazione del candidato del terzo polo, Nicola Rocco. Vediamo la sua presentazione. Mi chiamo Nicola Rocco, ho 33 anni, sono nato all'ospedale Caponceno, ho fatto le materne ammicito, le scuole elementari degli Amicis, le Medie e le Serena, mi sono diplomato al liceo classico Antonio Canova. Si dichiara fin da subito orgogliosamente trevigiano Nicola Rocco nel giorno della presentazione ufficiale a candidato sindaco per il terzo polo sotto la loggia dei 300. E è grazie al fatto che so di non essere solo che oggi annuncio la mia candidatura assieme a tutti i trevisi. A supportarlo ci saranno due liste, una civica fatta da giovani e una politica con volti noti dell'amministrazione locale, un mix di competenze con dei valori definiti irrinunciabili. Voglio una lista con tutti gli amministratori, voglio una lista con tante persone di esperienza e vedrete che ci saranno sorprese, ma voglio anche una lista fatta da tanti ragazzi giovani. Credere nei giovani non significa essere giovanilista, significa credere nella gavetta. Infatti io a tutti i candidati consiglieri comunali chiederò di fare formazione, formazione politica e amministrativa. Non ci si candida alla cosa pubblica in questo territorio se non si conosce la storia di Tinanselmi, non ci si candida se non si conosce il proprio quartiere, se non si conosce come è fatto il bilancio del Consiglio Comunale. Richiesta anche una solida esperienza nel campo del volontariato e sensibilità sui temi ambientali, del resto le priorità programmatiche per la città di Cerocco, sono essenzialmente due. Tutti noi abbiamo due veri nemici, l'inquinamento non solo da polveri sottili e le solitudini, solitudini che si sono acuite con la pandemia. La pandemia l'abbiamo rimossa ma ha lasciato delle ferite pesanti, soprattutto nei ragazzi giovani, nelle persone anziane, nelle persone sole. Sostanza ma anche forma che in politica si sa fa la differenza. Più volte il candidato del terzo polo sottolinea che il suo vero sfidante è l'uscente Mario Conte e poco importa se a pochi metri in linea d'aria ad ascoltarlo ci sia il candidato del centro-sinistra, Giorgio Denardi. Io sento di poter avere la libertà di dire che gli altri sfilanti sono delle persone bravissime. Io penso che il candidato del Partito Democratico, Giorgio Denardi, sia un imprenditore di cui il nostro candidato deve essere più aglioso. Sono convinto che il candidato Sina Cusciente sia stato una persona molto presente, dal cui bisogna imparare a stare tra la gente, che ha fatto delle cose importanti come l'aumento, del lanciamento alla rete funiaria, ha lavorato bene sui fondi europei e lo ringrazio per aver detto che io sono il suo principale sfidante. Quindi ringrazio Mario per aver detto che io sono il suo principale sfidante e anche per me Mario Conte sarà il principale sfidante. Accanto al tour nei quartieri Rocco che in questi giorni ha sentito i big Matteo Renzi e Carlo Calenda farà anche un giro tra i sindaci di ieri e di oggi. Qualcuno potrà storcere il naso magari, ma io voglio incontrare Gagliardi, voglio incontrare Gobbo, voglio incontrare Gentilini, voglio incontrare il mio caro amico Giovanni Manildo e voglio incontrare anche Mario Conte per parlare di PNRR. Questo perché deve essere una continuità amministrativa. Ricordiamoci sempre che chi guarda Treviso la guarda con invidia per quanto bella è la nostra città e se è bella è perché questa comunità ha saputo costruire qualcosa di importante. Con il mio entusiasmo, con le mie innovative vorrei candidarmi per renderla sempre più bella, sempre più Treviso. Fra l'altro presente c'era anche Giorgio Denardi che a margine della presentazione di De Rocco ha stretto la mano a Rocco dicendo anche io ho votato terzo polo, ho ammesso ma possiamo ancora lavorare insieme. Vorrei adesso un commento prima da Marco Della Pietra. Io credo che probabilmente si veda anche da... da chi partiamo? Da Denardi o da Rocco? Ma prima da Denardi che... Sì, beh fa strano sentire un candidato sindaco di uno schieramento politico dire, beh ho votato voi, peccato che non siamo andati assieme. Probabilmente ecco il... Non è la prima volta che sbaglia a parlare Denardi. Probabilmente ce ne saranno anche delle altre, presumo perché già con l'amministratore il condominio aveva fatto, no, l'uscita infelice. Adesso di una cosa del genere probabilmente o ha un Sping Doctor che non è all'altezza oppure insomma consiglio ecco di avere un ghostwriter che possa essere, no, strutturato perché sì, non mi pare molto furbo ecco fare una cosa del genere perché di fatto sono avversari. Mi pare ci sia un eccessivo buonismo che per l'amore di Dio, visto che mancano ancora dei mesi, ci sta anche, però insomma io starei un po' attento ecco. Paola Roma. Sì, mi collego con quello che diceva Marco, effettivamente è un po' strano sentire da uno sfidante dire insomma una cosa di questo tipo, anche perché nel momento in cui uno decide di candidarsi comunque lancia una sfida. sicuramente credo che il rispetto che ha dato rispetto anche di Rocco da parte sua nei confronti del sindaco Mario Conte uscente, credo che sia effettivamente una situazione in cui naturalmente un sindaco uscente che si ricandida per un secondo mandato giustamente deve avere la possibilità di andare a concludere tutto un iter anche di progettualità amministrativa, ancora di più si parlava di PNRR ma appunto progetti che sono partiti devono avere necessariamente la loro calatura sul territorio, quindi sicuramente credo che sotto questo aspetto insomma anche il cittadino quando prende una decisione rispetto a chi votare e a come farlo insomma valuta una serie di situazioni e valuta la presenza, la concretezza ma soprattutto insomma il fatto di avere risposte immediate da parte dei cittadini. Rispetto insomma a una campagna elettorale che parte credo che ogni persona che decide di candidarsi ci mette la faccia e quindi sicuramente mette la faccia per arrivare a un finale, quindi arrivare a quel traguardo. Trovo insomma che la campagna elettorale come diceva Marco è appena iniziata, magari vedremo poi quali saranno gli episodi e le modalità che attueranno, però insomma credo che da parte insomma di Rocco vedo un senso di rispetto anche da parte dell'altro candidato che è il nostro Mario Conte che ritengo appunto abbia fatto in maniera importante per Treviso insomma e se la giochi sicuramente con un'opportunità naturalmente importante rispetto anche a quello che oltre che per il comune di Treviso sta facendo anche come presidente di Anciveneto. Ecco poi avete sentito invece insomma le parole di Nicola Rocco, insomma quando si è presentato quali sono le priorità insomma che danno, che dà il terzo polo? Sì beh che sono un po' le priorità che comunque diamo tutti, sociale mi pare di aver capito e ambiente, adesso vedremo i programmi poi vedremo quanto di effettivamente sviluppabile ci sarà in questi programmi e quanto magari sarà utopico ecco. È facile parlare di ambiente di sociale, poi quando sei calato nel ruolo diventa un po' tutto più complicato. Sicuramente sono i due temi principali, forse perdonatemi ancor più il sociale in questo momento perché la situazione non è assolutamente tranquilla e vabbè insomma io adesso magari sono anche stato toccato nell'ultima settimana, in realtà nell'ultimo mese da alcune situazioni particolarmente gravi e quindi credo che quello sia il settore sul quale bisogna lavorare di più. Il lavoro che stiamo facendo con tutti i sindaci, qui abbiamo anche la presidente della conferenza dei sindaci, mi pare che sia assolutamente un lavoro di livello, però ecco è un lavoro che va costantemente alimentato, serve una quotidiana interazione tra i sindaci, un confronto vivo perché è talmente mutevole la situazione e in continua mutazione che se non sei pronto rischi poi di avere... Prima di dare la parola a Paola poi chiederò insomma ci vuole una rete, cioè cosa è cambiato, cosa sta succedendo a livello sociale perché lo abbiamo visto come dicevi tu insomma a Spresiano ma non solo, in tante anche altri comuni situazioni molto difficili. Ma io credo di fatto che siamo arrivati a un punto che o si svolta o sarà un punto di non ritorno, questo perché per una serie di fattori sicuramente il Covid e il lockdown ha avuto il suo ruolo, assolutamente sì, però non limitiamoci a dare tutte le colpe a questa situazione. Adesso abbiamo una crisi economica e finanziaria che magari non permette nemmeno ai genitori di stare troppo dietro i figli perché devono sbarcare lunario perché altrimenti non si va avanti. Abbiamo tutta una serie di certezze che si avevano quando ero piccolino io, vedi le parrocchie, vedi... Si sono persi dei valori. Assolutamente sì, ma c'è stato anche un progressivo allontanamento da parte di tutti ma non c'è una colpa, ma la scuola stessa rispetto a 20-30 anni fa ha assunto un ruolo diverso, per cui ecco occorre assolutamente fare un ragionamento e riprendere le redini di questa situazione perché altrimenti si rischia a tracollo. Attenzione, non solo a livello giovanile ma anche per quanto riguarda gli anziani perché non dimentichiamoci che quello che è accaduto negli ultimi 3-4 anni, specie magari a livello di RSA e anche di decessi e quindi una mutata visione anche del vivere dell'anziano credo che serva assolutamente un confronto continuo. Paola, qui poi parliamo anche di RSA e aumenti... Aggiungerei rispetto a quello che diceva Marco due punti. Uno, prendo per esempio Treviso visto che si stava parlando prima anche del bando ERP e anche dell'opportunità che anche i nostri cittadini possano aderire a questo bando eccetera e della fruibilità molto veloce proprio del sito anche regionale e questo lo devo dire perché anche per il cittadino che si deve mettere a fare una domanda di un bando credo che sia opportuno che appunto gli strumenti siano veloci e su questo devo dire la verità le procedure sono molto semplici, molto facili e anche intuitive. Dall'altra parte proprio rispetto a questa che è un'emergenza strutturale, l'emergenza casa, andiamo anche a vedere situazioni nelle quali magari hanno anche l'opportunità di acquisire la casa, magari devono partecipare un'asta e attenzione non tutti i nostri cittadini sono in grado di capire le modalità operative per poter aderire alle aste. Quindi credo che anche sotto questo profilo è uno dei ragionamenti che dobbiamo fare anche per lavorare anche insieme per trovare delle opportunità anche di confronto rispetto a questo. Non da ultimo appunto gli scenari che stiamo vedendo rispetto ai centri servizi alle necessità appunto delle famiglie anche di capire i costi che vanno a sostenere e pertanto anche dell'opportunità di avere degli assistenti domiciliari che anche in questo caso hanno magari una contratualistica di lavoro non molto ampia e che magari devono ritornare ai paesi di origine e chiaramente soprattutto nell'anziano con decadimento cognitivo è una cosa che ci preoccupa tantissimo perché significa riportarlo con un'altra persona a, tra virgolette, riprendere tutta la modalità anche di vita che stava svolgendo prima. Ecco Paola abbiamo nominato, insomma gli anziani abbiamo nominato le RSA e c'è insomma l'abbiamo visto un aumento nelle tariffe e ritorniamo anche alla questione insomma dei cittadini che stanno anche in un momento di grande difficoltà e una, insomma, questo aumento che è finito anche in Parlamento. Sì, allora noi come conferenza dei sindaci tutti quanti insieme con il dottor Benazzi, con il direttore generale abbiamo inviato appunto al ministero una richiesta puntuale e precisa nella quale abbiamo anche collegato i fondi nazionali che sono arrivati alla regione, sono transitati dalla regione poi alle ULS che hanno erogato ai centri servizi, quelle che sono arrivate per le IPAB che sono appunto quelle di dicembre ma che riguardano le 18 IPAB del nostro territorio, della nostra provincia in particolare e dall'altra parte ovviamente tutte quelle con partecipazioni che i sindaci hanno fatto perché quando parliamo di questo mondo parliamo anche di tutto quel residenziale e semiresidenziale che è anche del disabile ma anche del minore, quindi la tematica è a 360 gradi, in particolare lo vediamo dai costi che vanno a sostenere anche per l'attività appunto di pulizia, di l'incremento ovviamente della spesa al di là di tutta la parte dei costi energetici. Io credo che come conferenza avendo dato anche delle individuazioni anche precise e sappiamo che in Italia ci sono quattro regioni che hanno questa tipologia di strutture, sicuramente quello che è l'input nazionale che poi è europeo sui fondi che arrivano al nazionale e nazionale poi sul regionale e che poi arriva sul nostro territorio è che chiaramente i centri servizi assumono una funzione diversa, quella del collegamento con la telemedicina, aprono i cittadini anche per fare determinate visite di controllo piuttosto che altri scenari che già stanno facendo per l'assistenza domiciliare ma soprattutto anche per quell'attività anche di presa in carico di diurnato un po' diversa da quella che viene fatta. Sicuramente ci sono delle opportunità, solo che un fondo nazionale in autosufficienza non può non avere degli incrementi importanti ed averli in situazioni in cui abbiamo, voglio dire, dati alla mano, statistiche alla mano, un numero di popolazione residente che ovviamente ha una determinata fascia di età. Questo lo dico perché dovremmo andare a prendere delle decisioni proprio insieme con i sindaci sui piani di zona che vedono aver avuto nella nostra provincia 114 manifestazioni di interesse di cui circa 60 sono per centri servizi. Ora, siamo stati ben chiari su questo perché se lo scenario è quello di ridurre chiaramente e far vivere le strutture che sono presenti sul territorio abbiamo determinati posti letto che possono essere dati e quindi chiaramente una casa di riposo resta in piedi se dall'altra parte ha un accreditamento di posti ma anche di impegnative correlate e questa è una cosa che preoccupa tantissimo noi sindaci perché dobbiamo preoccuparci di quello che c'è, che c'è già l'esistente e poi di vedere quali sono le necessità. Per esempio adesso, Marco prima lo diceva rivolto ai giovani, abbiamo sempre più necessità di strutture che siano di doppia diagnosi collegate tra la dipendenza e la psichiatria e la salute mentale. Quindi anche situazioni di questo tipo chiaramente sono quelle che ci preoccupano e che magari non sono molto redditizie ma che a livello nazionale dovrà essere presa una decisione per creare anche nel privato l'opportunità di investire anche in questa tipologia di strutture che non è solo sociale, è anche in parte sanitaria. Ecco, sì, perfetto, ci vuole, esatto, bisogna anche far capire alla gente che sembrano discorsi astrusi, così fatti solo da chi è addetto ai lavori. In realtà un certo tipo di strutture arriva a costare ai comuni, parlo adesso delle strutture magari per i minori, anche 500 euro al giorno, giusto perché si sappia. Ci sono delle comunità, no, sbaglio Paolo. Non parliamo degli anziani perché le cifre sono davvero... Sì, però 500 euro al giorno, al giorno, non al mese, al giorno, sì perché si va fuori in regione, ma comunque anche in regione ne abbiamo da 300, 300 rottiere. Quando la comunità non è solamente sanitaria, ma è anche magari psichiatrica, si rischia di... e quindi nelle economie di un comune, un minore ha 300 e rotti euro al giorno, vabbè qualcosa si recupera, qualcosa c'è la parte, la parte che pagano tutti, però in realtà stai presto a fare 100 mila euro all'anno per una persona. Quindi ecco che c'è anche tutta la fase preventiva che deve essere messa in atto, in modo tale che questo minore non debba finire in comunità. Per cui ecco, è più complesso di quello che magari... No, è molto complesso, molto complesso, purtroppo penso che se ne rendano conto anche i cittadini. Sì, sicuramente se ne rendono conto, però ecco, quando magari dici anche qualche cifra... Si, in un territorio che ripeto, quattro sono le regioni in Italia che hanno investito in questo e quindi di queste quattro è giusto che abbiano degli interventi dal punto di vista ministeriale, ma quindi con fondi dedicati, di un certo tipo, perché chiaramente le IPAB hanno avuto un certo tipo di ristoro. Ma proviamo a pensare anche l'attività dei centri diurni che permettono all'anziano di fare, quindi della famiglia, anche di sostenere quel tipo di costo. Ovviamente ci deve essere un minimo di intervento, perché ripeto, questi sono tutti i costi fissi che per il centro servizi sono a carico loro. Oltre, ripeto, come diceva Marco prima, che non ci troviamo in una situazione di un anziano che ha un decadimento cognitivo, quindi problemi collegati all'Alzheimer, per il quale ovviamente va a lievitare tutto quanto, perché rispetto all'assistenza, rispetto ai rapporti, l'età si sta anche abbassando, per cui ci sono casi anche di persone di 40 anni che hanno sicuramente questo tipo. E che hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di una struttura, perché poi diventa complicato anche per le famiglie gestire. E poi c'è tutta la parte anche delle famiglie, noi stiamo lavorando bene, molto bene anche, posso dire, con i centri sollievo e con le attività anche del caffè Alzheimer, che sono piuttosto diffuse in provincia. Però ecco, c'è anche la parte di sostegno alle famiglie, perché molto spesso si pensa solamente a chi ha la patologia. Ma ricordiamoci che c'è anche una famiglia dietro che spesso deve sacrificare molto del suo. Cosa vi aspettate adesso da Roma? Ci aspettiamo intanto che, visto che si è aperto anche un percorso con l'autonomia, che un qualcosa ci arrivi per questa cosa, perché credo che andare a privilegiare una regione, un territorio che appunto ha investito in questo, possa sicuramente diventare importante. Ma credo che l'unico sbocco che abbiamo anche richiesto al Ministero è che quel Fondo Nazionale di Autosufficienza abbia tre classificazioni dedicate ai minori, dedicate ai disabili e poi alla parte degli anziani e sicuramente con un incremento di risorse che vanno appunto per questo. L'attività preventiva che i comuni, che l'azienda sanitaria adesso riesce a poter fare sicuramente ha bisogno di sostegno, perché è chiaro che un progetto che parte adesso in prevenzione avrà degli effetti tra 3-4 anni. Lo sappiamo che queste sono le tempistiche e sappiamo anche che il sociale, e qui ritorno proprio sul ruolo di noi sindaci, non può essere dato solo alla buona volontà del sindaco nel portare avanti un progetto, perché come nel sanitario nascono dei progetti, una volta che nascono c'è il personale, c'è una prerogativa che poi continui, anche il sociale deve avere una situazione sistematica di intervento e questa può essere data solo se anche a livello nazionale, con fondi poi ripeto che possono arrivare anche a livello europeo, vengano individuati i canali che permettano appunto una strutturazione della tipologia dell'intervento e non alla buona volontà dei sindaci o dei bilanci comunali, che chiaramente già gravano per questa quota sanitaria, ma il sociale è anche tutto il resto che non abbiamo appunto trattato, ma va dalle bollette ai sostegni ai ragazzi, alle attività appunto dello spazio di ascolto per i ragazzi, a tutte quelle attività che insomma coinvolgono tutta la parte sociale del territorio. Sul comune grava veramente, in questo momento, in una situazione come abbiamo descritto fino ad ora grava veramente di tutto e di più, insomma, e diventa impossibile quasi riuscire ad aiutare. Sì, si debbono fare delle scelte. E non è sempre facile con l'altro. No, assolutamente no, si devono trovare delle priorità. Qua si fa presto a fare il gioco delle opposizioni, no? Nel senso che oggi magari è più facile attaccare un sindaco in carica proprio perché si devono fare alcune scelte. Francamente, da parte mia, ma credo da parte di tutti i colleghi, siamo consci dell'impegno che siamo andati a prendersi e ad assumere e quindi siamo anche disposti a fare scelte impopolari che poi, come giustamente diceva Paola, tra qualche anno risulteranno essere le scelte più giuste e più efficaci. Quindi avanti, avanti tutta, è chiaro che fino a un certo punto si può arrivare e poi è necessario che lo Stato centrale prenda anche esso delle decisioni magari impopolari nei confronti di altre regioni che meno hanno investito. Però, sai, io sono anche un po' stanco di fare il virtuoso e poi non saprei usare altra forma se non quella di un francesismo che dice prendermela in quel posto nel momento in cui faccio tanto il virtuoso e poi dopo alla fine chi ci guadagna sono quelli che virtuosi non lo sono. Leggevo l'altro giorno sul Sole 24 Ore che sono circa mille i comuni a latitudini differenti rispetto alle nostre che sono in deficit. Noi siamo qua che ci barcaminiamo, magari cerchiamo di dare comunque tutti i servizi e riusciamo a trovare l'equilibrio di bilancio in altri posti invece chi se ne frega tanto poi arrivano ad aiutarci. Credo che sia ora di finirla con un certo tipo di atteggiamento. L'autonomia in questo potrebbe aiutare? Io mi ero ripromesso di non parlare di autonomia no ma sapete perché? Perché credetemi è stata una soddisfazione grande quello che è accaduto pochi giorni fa perché sapete che io faccio parte di uno schieramento politico e non ne faccio assolutamente mistero però c'era una diffidenza piuttosto palpabile, specie, no? Nelle nostre zone e invece di fatto credo che l'apporto di Fratelli d'Italia sia stato assolutamente decisivo che poi dopo anche qui si strumentalizzi la cosa ho sentito dire da parte di qualche schieramento politico spostato un po' più verso sinistra che è stata portata all'autonomia nel Consiglio dei Ministri perché adesso ci sono le elezioni regionali io ricordo a questi schieramenti che elezioni ne abbiamo una ogni sei mesi ormai per cui ecco si sta presto a dire ah l'hai fatto a scopo elettorale io credo che sia stata data una bella impronta e adesso sicuramente andremo, accelereremo sicuramente quindi sono particolarmente soddisfatto e l'apporto del mio partito credo sia stato essenziale io ringrazio perché siamo arrivati proprio al termine ringrazio Marco Della Pietra per essere stato con noi ringrazio anche Paola Roma per essere stati con noi di domenica quindi grazie davvero ma per te noi veniamo assolutamente anche la domenica grazie davvero, grazie il meteo e l'appuntamento ovviamente sempre per la prima edizione e per domani grazie, rivederci Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna benvenuti al meteo anticiclone delle azzorre in declino il tempo si manterrà stabile ma torna all'aria gelida di origine artica il dettaglio di domenica 5 febbraio sul Veneto cielo nel complesso poco nuvoloso con significativi spazi di sereno ma anche fasi di copertura piuttosto estesa limite delle nevicate in calo fino a quote collinari temperature in lieve diminuzione minime tra meno 3 e 3 gradi massime tra i 5 e i 7 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui avremo un ampio soleggiamento qualche nube a carattere sparso ma del tutto innocua farà progressivamente più freddo con temperature minime sotto zero ovunque massime sui 5 e 7 gradi infine diamo uno sguardo la situazione del Trentino Alto Adige dove il cielo risulterà coperto con nubi basse e nebbie inizialmente più sole invece a seguire temperature minime intorno a meno uno meno quattro gradi massime sui 6 e 9 all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia Tremonti attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna Grazie a tutti Grazie a tutti